Lorenzo Andreaggi ha preparato una nuova canzone sulla Fiorentina. Come nasce quest'idea di fare una canzone sulla Fiorentina? Ce ne sono state tante, a parte quella l'inno, ma ce ne sono state diverse di tentativi. Ce ne sono state tante, c'è stato il viola di Don Bachi, c'è stato quella dell'era Pontello, ce ne sono state veramente tante di canzoni sulla Fiorentina. L'idea nasce un po' per caso, un po' una sfida, diciamo, per dire, beh, proviamo a fare una canzone d'amore per la nostra squadra del cuore, per la nostra città, cercando di descrivere Firenze e la Fiorentina con dei termini un po' più moderni, un po' più appetibili anche per i giovani. Insieme a due musicisti e compositori, nonché miei amici, Alessandro Innocente e Dario Matina, abbiamo scritto questa canzone, Questa è Firenze, che il titolo appunto riprende uno degli slogan più famosi e di più successo della società viola. Le parole sono tue, la musica è tua? È di tutte e te. È una collaborazione. È una collaborazione a tre, sì. Ma l'ispirazione cosa te l'ha data? L'ispirazione del testo? Sì. Beh, pensando alla città, pensando alla squadra, pensando a quello che potessero pensare i giovani. Dove l'hai composto? A casa? A piazzale Michelangelo? Sotto un albero? No, no, no. Molto più semplice. L'abbiamo composto a casa. E l'idea qual è? Quella di scalzare l'inno di Parigi? No, assolutamente. Infatti questa è una cosa che ci tengo molto a sottolineare, anche perché in Narciso insomma, sapete un po' che mi ha seguito il legame che abbiamo avuto. Assolutamente, l'inno è quello lì, l'inno è canzone viola e canzone viola resterà per sempre, perché qualcuno vorrà toglierlo, ma canzone viola resterà come in ufficiale. Questa è una canzone d'amore per la Fiorentina, come ce ne sono state tante e come ce ne saranno anche il futuro sicuramente, finché il cuore viola continuerà a battere. E l'aspirazione quale può essere? Che un giorno la canti la Fiesole? Ma spero, nel senso spero. È una canzone dove la Fiesole viene nominata anche molto spesso, che ci tengo molto alla tifoseria, ci tengo molto a come la Curva Fiesole porta a Firenze come passione, come amore, come vita, come stile di vita, perché essere fiorentino è uno stile di vita, non è dire che sono toscano, io sono fiorentino, c'è una bella differenza. Ce la puoi accennare la canzone che esce il 15 aprile, giusto? Esce il 15 aprile e vi posso solamente dire che quel giorno ci sarà un grandissimo squarcia il cielo e un raggio viola. E dove la si potrà ascoltare? La si potrà ascoltare su tutte le piattaforme digitali distribuita da Compagnia Nuove Indie di Paolo Dossena, questo grande produttore discografico ha fatto un po' la storia della della musica italiana e sono molto orgoglioso che gli sia piaciuta e che abbia voluto distribuirla. Allora in bocca al lupo a questa è Firenze. Ok.